durante l'adolescenza e anche durante l'università la digestione per me ha sempre rappresentato un problema dovevo continuamente prendere semi di lino prugne secche fiocchi di latte o perfino lassativi senza alcun risultato poi ad un certo punto ho scoperto il bellicon e da allora non ho mai smesso di molleggiare così attivo la peristalsi tutto l'intestino scilla insieme a me e mi sento bene non ho bisogno di altro niente più prodotti lassativi se si pensa che la digestione assorbe il 40 per cento dell'energia del corpo e che da giovane spesso era molto stanca diventa chiaro che le due cose erano collegate oggi non è più così molleggiando infatti rendo la mia digestione molto più veloce per stimolare la digestione consigliamo questo esercizio semplicemente oscillare portando prima l'uno e poi l'altro ginocchio verso l'alto pensando che l'attività intestinale la peristalsi si sposta su e giù con noi così facendo si muove l'addome in direzione diagonale e di conseguenza si stimola l'intestino la peristalsi si sposta su e giù con noi così sposta su e giù con noi così sposta su e giù con noi in direzione diagonale e di conseguenza si sposta su e giù con noi così sposta su e giù con noi